Anche il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha confermato la squalifica di Pietro Arcidiacono. Il calciatore del Cosenza dovrà restare al palo fino al prossimo 20 luglio e scontare per intero gli otto mesi di stop inflitti per aver mostrato durante la gara a San Biasi-Cosenza una maglietta con la scritta Speziale Innocente di fronte alle telecamere di Rai Sport. I legali di Arcidiacono, Leonetti e Scarpelli avevano chiesto di annullare la sanzione o di combinarne una più lieve, sostenendo che la violazione contestata al calciatore fosse insussistente perché non risultava dal rapporto del direttore di gara o dei collaboratori, essendo a parere dei ricorrenti inutilizzabile la segnalazione del commissario di campo che per l'articolo 35 del Codice di giustizia sportiva dovrebbe attenersi a individuare fatti attinenti a condotte violenti o blasfeme. Altro rilievo sul quale si basava il ricorso è che la scritta Speziale Innocente non voleva magnificare l'autore di un omicidio, ma rappresentava una, seppur non condivisibile, manifestazione del pensiero del giocatore. E in ultimo che la sanzione combinata risulta sproporzionata in considerazione al fatto, alle sanzioni irrogate in casi precedenti e al successivo comportamento del calciatore che ha chiesto scusa ripetutamente alla famiglia Raciti. Il collegio ha rigettato la richiesta perché ritiene che l'articolo 35 del Codice di giustizia sportiva indica i documenti che fanno piena prova di quanto accaduto sul campo, ma non esclude prove diverse e atipiche come la relazione del commissario di campo. In più, proprio le scuse del calciatore provano che il fatto sia avvenuto e quindi non insussistente. Il collegio ha ritenuto l'azione del calciatore lesiva dei valori sportivi perché è avvenuta, tra l'altro, a pochi giorni dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul caso Raciti e di fronte alle telecamere di una TV nazionale. Per il collegio, inoltre, la sanzione è opportuna perché non inficia la carriera del calciatore e proporzionata al comportamento lesivo attuato dallo stesso per la tempistica, l'attualità e la drammatica concretezza degli interessi lesi. Insomma, il CNAS ha rigettato integralmente il ricorso presentato dai legali di Arcidiacono, respingendo qualsiasi tentativo.